ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di alfonso selva il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice puntata numero 73 ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice di alfonso selva oggi dato che sennò sentite sempre a me vi scocciate farò una puntata un po diversa a prima di scordarmi se vuoi vai sul mio sito e scarica gratis il mio libro su come diventare un investitore consapevole insomma ti do tante informazioni su come investire dove investire sulle varie possibilità che esistono www.alfonsoselva.it e ti scarichi il mio libro come dicevo oggi ho invitato una persona che chiaramente non è consulente finanziario però da quello che sento da voi e poi dalla mia esperienza personale anche penso che la sua professione potrebbe essere molto utile quindi farò una puntata di di servizio come dico io quando invito qualcuno che non è proprio che non è collegatissimo al discorso degli investimenti si chiama gianluca biondi è un amministratore di condomini molto bravo e anche molto diciamo al passo con i tempi perché è un amministratore 2.0 come lo chiamo io gianluca benvenuto grazie mille alfonso grazie per avermi invitato nel tuo podcast no no un piacere per me lo sai perché ti stimo e sei un professionista avanti non sei come i vecchi amministratori diciamo di una volta di sei aggiornato con i tempi e quindi volevo dare volevo un po intervistarti per dare notizie di come si può fare oggi l'amministratore come eventualmente chi vorrà poi ti potrà contattare per avere informazioni anche chiederti di 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 seguirlo insomma poi vedranno loro molto volentieri molto volentieri allora tu sei un amministratore di condominio detto bene no sì esatto perfetto quello è spiega tu in parole semplici un po chi ci ascolta cos'è un amministratore di condominio un po lo sanno un po tutti però magari come lo intendi tu il tuo lavoro da il tuo come lo fai tu sì allora io gestisco ovviamente dei condomini per me amministrare condomini significa far stare bene le persone perché quando tu diciamo gestisci un condomino cerchi di migliorare il posto dove vive dove vivono le persone la gestione ovviamente un po la parte amministrativa quindi i conti le entrate le uscite le fatture da pagare ma più che altro sono gli interventi che vengono fatti sul condominio quindi si rompe la luce io fisicamente vado a sostituire la lampadina no scherzo ovviamente chiamo chiamo la dita insomma che qui insomma dove abito io c'è questa abitudine per qualche mio vecchio collega diciamo ma quello che io introdotto diciamo è che mi fa mi rende un po diverso rispetto agli altri amministratori è l'uso massiccio del digitale bellissimo che lo sai che io ci tengo tanto perché io lavoro tanto sul digitale di consulente finanziario cercato di farlo evolvere il più possibile in quest'ultimo anno di lockdown mi è servito tantissimo perché ho potuto contattare seguire diciamo anche far investire i miei clienti anche senza vederci perché purtroppo non ci si poteva vedere oppure andandogli a casa loro ma insomma questo era il digitale si è risolto tanti problemi e infatti tu l'hai applicato anche nel tuo lavoro sì infatti la prima cosa che ho introdotto è whatsapp insomma questa applicazione odiata e amata allo stesso tempo perché ho scoperto che attraverso diciamo questo strumento io riesco ad arrivare molto più velocemente rispetto alla classica telefonata io odio le telefonate odio le chiacchierate di ore e ore diciamo fatte al telefono e riesco ad arrivare in maniera più veloce ai condomini e riesco anche a contattare velocemente i fornitori quindi fare diciamo un cortocircuito tra la segnalazione e poi l'intervento di essere sul pezzo all'istante di non fa di non lampadina che non funziona che non so con la mondezza che è stata messa a buttata da parte queste cose pratiche qua anche perché poi i condomini anch'io sono un condomino del mio palazzo salvo chi vive in una villa isolato ma diciamo la maggior parte delle persone vive in un condominio quindi siamo tutti abbiamo tutti queste esigenze pratiche anche se facciamo dei lavori più disparati ma se abitiamo in un condominio è quello no? esatto io utilizzo un'applicazione che è fantastica si chiama franz e quindi ho la chat di whatsapp sempre a video per cui appena arriva vedo la notifica rossa che compare vado a vedere vedo insomma chi mi scrive rispondo velocemente lo vedo in modo pratico insomma invio allegati invio convocazioni video già questa è una bellissima cosa perché sapere che dall'altra parte il proprio amministratore vede diciamo quasi in tempo reale salvo che non stai dormendo mangiando facendo un'altra cosa insomma le ore altre le ore fuori lavoro ma insomma sapendo che non deve arrivare la raccomandata la cosa la telefonata poi non ti ci trovo già questa è una grandissima cosa per i condomini no? penso sia molto apprezzata sì io ho fatto questa scoperta praticamente alle segnalazioni quando io prendo un nuovo condominio in genere i primi due mesi sono focali per cui ti chiamano ti tempestano di telefonate dopo un po' quando vedono che io introduco insomma questa questa tipologia di comunicazione scompaiono nel senso che non mi chiamano più forse perché chi lo sa sono abituati al fatto che scrivo prima io faccio sono più veloce di loro a scrivere e quindi insomma si tranquillizzano e niente poi le segnalazioni diminuiscono o diventano esattamente quelle relative a problemi reali perfetto e questa è una grande cosa perché come dico dall'utente sapere che il proprio amministratore ti segue è importantissimo senti io da uomo della strada chiaramente io faccio il mio lavoro e non so niente o quasi nulla del tuo lavoro per dire niente che sarebbe meglio ti voglio fare qualche domanda proprio bassa normale semplice mi piacerebbe che tu rispondessi che sono le domande penso che c'erano un po' tutti quanti salvo i tuoi colleghi che sapranno queste cose con precisione noi poveri umani non le sappiamo allora ok la domanda che che viene che ho sentito che tra le amici dice come si fa a capire quanto paghi di condominio al mese perché io col mio appartamento pago 50 euro quell'accanto che mi sembra uguale ne paga 45 e quell'altro che mi sembra uguale a me ne paga 70 cioè da dove viene queste differenze come fai? Sì guarda per non rendere troppo complicata diciamo la spiegazione ti faccio un esempio supponiamo che abbiamo un condominio di 10 appartamenti tutti appartamenti di 100 merri quadri e abbiamo solamente la spesa della pulizia delle scale facciamo un esempio semplice diciamo facciamo 1000 euro al mese la sto mettendo lì così cosa succede che ovviamente ogni appartamento ha 100 millesimi di quota perché essendo 10 appartamenti 1000 millesimi ogni appartamento a 100 millesimi quindi fosse il 10 per cento va per noi persone normali 10 per cento chiamiamolo percentuale va lo so che i millesimi vengono usati da quello come mi hai spiegato tu perché poi te l'ho fatta anche questo anno intanto mi servi i millesimi sono per fare ancora più preciso perché la percentuale non sarebbe così precisa per calcolarlo giusto? sì esatto ci sono diversi indici e fattori ma non credo sia questo no 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 perché allora quindi torniamo alla cosa semplice come dici tu no? quindi abbiamo 1000 euro al mese di spese di pulizia e quindi ogni condomino ha una rata mensile di 100 euro perché appunto è tutto al 10 per cento quella è la rata mensile perché c'è una sola spesa e i millesimi sono uguali per tutti però nella realtà non è così perché gli appartamenti non sono tutti uguali assolutamente anche se sembrano uguali di poco anche di feccia poi quello da 50 metri quadri dell'80 metri quadri ancora una differenza enorme insomma esatto poi c'è la differenza del piano quindi io che pago al primo piano che sono al primo piano pago in maniera diversa rispetto a chi sta al secondo al terzo e viceversa ci sono tanti terrazzi immagini terrazzi immagino che non so se stai all'ultimo piano o se stai proprio ci stanno anche degli appartamenti che sono al semi interrato esattamente esattamente per esempio i posti auto non pagano alcune spese non so i box auto quelli sotto il condominio quando tutti infili in quei garage pagano cose diverse rispetto a chi ha un appartamento sono costi differenti ovviamente sarebbe complicato entrare troppo no 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 quindi per determinare le spese la ripartizione delle spese comuni che sono che ne so la pulizia la luce le cose comuni tu usi questo metodo dei millesimi giusto e questo tutti i miei colleghi usiamo sì questo metodo dei millesimi e da questo viene fuori la rata che ognuno deve pagare per farla essere più precisa possibile per non fare una cosa su per giù per non fare diviso tutti e dieci poi io ho l'appartamento a 100 metri quadri non è giusto che io paghi come quello da 50 esattamente così esatto hai centrato perfettamente la cosa insomma perfetto quindi c'è c'è una ragione per cui si paga diversamente sì assolutamente ok senti un'altra domanda e che poi ma se io le assemblee di condominio che sono una delle cose più tremende nella vita di tutte le persone che esistono poi immagino te che le devi condurre insomma sono divertentissime le assemblee ci si diverte immagino che divertimento anch'io ci ho partecipato un paio ho detto no vabbè però per convocarla cioè se io se io condomino voglio o voglio fare la posso posso dire voglio fare un'assemblea di condominio perché voglio dire a tutti che ho questo problema come faccio esiste questa cosa sì esiste l'assemblea non la convoca solo l'amministratore però se ad esempio mettiamo caso tu hai bisogno di capire a cosa si riferisce una spesa oppure vuoi vuoi far fare il cancello elettronico nuovo a tutto il condominio sempre siamo nel famoso condominio di dieci appartamenti basta che tu e un altro condomino fate una richiesta all'amministratore tramite raccomandata semplice semplice così appunto firmate questa richiesta richiedo di mettere all'ordine del giorno nella prossima riunione il rifacimento per esempio del cancello condominiale che ne so l'installazione di una piscina adesso dico un'assurdità la piscina sul terrazzo condominiale potrebbe essere una una richiesta del tutto legittima oppure nel parco condominiale se magari c'è spazio di ciclo che fa una piscina che chi è d'accordo con me è proprio così semplice semplice bravo bravo esattamente gli mandi quindi non solo tu puoi decidere l'assemblea no da soli no poi da solo tu amministratore dico non solo tu amministratore no 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 assolutamente qualsiasi condomino può richiedere all'amministratore di fare una riunione si dice straordinaria per discutere di punti che in genere l'amministratore non mette per qualsivoglia ragione insomma scusa perché hai detto straordinaria perché invece sono quelle ordinarie perché le ordinarie sono quelle del bilancio e quindi quelle che si fanno in genere una volta l'anno tutte le altre si chiamano straordinarie perché contemplano delle dei problemi che in generale non vengono discussi mai no quindi un cambio di destinazione di una zona comune la creazione di parcheggi comuni per esempio che ti posso dire installazione di un gabbiotto che dove ci metti un portiere che controlla il viale condominiale vari problemi vari problemi la videosorveglianza ad esempio questa richiesta dai condominio senti ma raccontami tu un fatto pratico di un'assemblea condominiale dove magari come erano gestite prima per quel condominio poi sei arrivato tu insomma come le hai magari speriamo rese più tranquille nei condomini che non si sono accapigliati lanciati roba presi a parolacce che so che succede anche queste cose insomma ma molto semplicemente ho preso tutti i documenti di cui dovevamo discutere in assemblea glielo ho mandati prima dell'assemblea senso che l'amministratore quando deve fare un bilancio ad esempio oltre al rendiconto quindi mi devi dare 100 euro perché non mi hai pagato piuttosto che c'è una spesa straordinaria da calcolare deve fare una relazione dove descrive cosa è successo nell'anno come se fosse un tema quindi il 2020 è successo questo 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 e questo ho fatto queste cose in genere gli amministratori portano questi documenti in assemblea quindi il condomino poverino non ha tempo di leggere sto papiello si dice a napoli magari tu glielo mandi su whatsapp bravo esatto oh bellissimo magari la posta si perde e la rubano dalla caschetta non arriva la raccomandata invece su whatsapp generalmente salvo catastrofi mondiali arriva sempre e rimane sempre a disposizione quindi lui la può andare a consultare in qualsiasi momento quindi tu 15 giorni prima gliela mandi ovviamente al tempo di leggerla e mi è capitato proprio il 2 ottobre del 2020 ho fatto il la riunione in uno dei condomini più grandi che ho che ha 120 unità immobiliari sono presentate 50 persone in assemblea quindi pensate covid mascherine di sanificazione meno male che era un teatro va e quindi quindi quando io parlavo di vari punti naturalmente avendoli avendo messo dato un tema i condomini già sapevano tutto quindi io molto spesso durante i punti all'ordine del giorno mi fermavo perché i condomini stessi dicevano vabbè amministratore questo l'ho letto vabbè amministratore in questa cosa andiamo avanti vai 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 bello c'è ragione il valore va preparato insomma non viene molto impreparato che è la cosa più brutta per tutti quanti no non sapere una cosa e la riunione va preparata molto tempo prima e va dato il tempo ai condomini di leggere quello che è successo insomma perché sennò poi in riunione ci metti otto ore per discutere su un punto invece così vabbè ci ho messo un po tanto è un'oretta e mezza conto di arrivare a 45 minuti la prossima guarda Gianluca io mi ricordo quando ero piccolo c'erano 15 anni 16 anni i miei andavano in assemblea andavano dopo cena alle nove e mezza e tornavano su casa l'una le due di notte io rimanevo sconvolto perché non capivo diciamo possibile e li sentivo urlare per le scale perché poi si fanno le riunioni no si fanno quando sono condominio un condominio piccolo dove abitavo era 15 appartamenti quindi però non è che si poteva andare a casa di uno dell'altro si faceva nell'androne delle scale no sì sì certo e quindi li sentivo quindi hai cercato di fare una condominio di un'ora è un successione anche un'ora e mezza per me è una cosa fantastica perché in genere sai che fanno gli amministratori fanno parlare i condomini tra di loro non danno una guida durante l'assemblea invece è importante perché se tu lasci spago al condomino più precisino quello ti sta su un punto pure tre quarti d'ora e non non è corretto non è giusto nei confronti di altre persone che ci hanno anche da fare voglio dire ecco perché le 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 riunioni condominiali fiume o cose del genere poi uno si sa spera un casino sì senti altra domanda ma se io non voglio andare alla riunione condominiale no posso delegare qualcuno a quello che so io giusto certo si fa la delega matriosca adesso ti do questa ah ecco vai dimmela dimmela questa non l'ho mai sentita allora la legge prevede che tu deleghi per esempio tu non vuoi andare deleghi me io posso delegare un altro un altro può delegare un altro un altro può delegare un altro quindi alla fine io ho delegato uno che non so chi ci andrà alla fine è tutto legale va bene comunque è un caso ovviamente rarissimo a me è capitato una sola volta in un condominio piccolo dove il delegato era il terzo in ordine di successione però però è capitato non gli andava nessuno di venire insomma esatto esatto basta che scrivi ma può capitare che invece magari ti si presenta in assemblea uno solo che c'è le deleghe di tutti può succedere successo anche questo allora può capitare però in generale adesso ti dico un'altra cosa molto sfiziosa per i condomini sotto le 20 sotto i venti proprietari un condomino può avere può avere la delega di tutti gli altri a me è capitato di discutere ti presenta questo caso un condominio che amministravo un condomino cinita il condominio per un problema si presenta l'avvocato di questo condomino io mi presento con l'altro condomino che aveva le deleghe di tutti gli altri questo condomino ha perso nel senso che la cosa che voleva proporre non è stata votata c'è una piccola maggioranza quell'altro esattamente sì però solo con in condomini dove ci sono meno di 20 proprietari perché se invece sono di più non si può fare questa cosa una persona può ottenere un quinto delle deleghe quindi 20 per cento massimo bravo esattamente bravissimo a prescindere dai millesimi famosi che abbiamo detto prima esatto ok quindi gli appartamenti non importa se siano grandi o piccoli dipende da appartamento appartamento esattamente esattamente ok ok beh no belle queste cose vedi non le sapevo assolutamente senti ma una domanda che magari così ti colgo totalmente impreparato perché poi le domande non le abbiamo preparate ma si può fare una assemblea online allora teoricamente sì però la legge non lo prevede cioè farla su zoom ormai vedi che ormai il mondo d'oggi facciamo tutto su zoom o skype o quello che è cioè si può fare allora per legge no diciamo che lo puoi fare se tutti i condomini sono d'accordo ho capito ho capito quindi se tutti ma lo devono dichiarare immagino sì lo devono dichiarare e devono diciamo dare un io farei dare in genere il consenso scritto perché comunque è pericoloso che metti caso si deve approvare una spesa straordinaria tu te la rischi con la video assemblea ti arriva uno e fa tramite avvocato fa opposizione al verbale cioè contesta il verbale dopo e c'ha ragione perché legge non prevede la l'assemblea online ancora però se tutti si dichiarano d'accordo sì su se tutti si dichiarano d'accordo sì assolutamente sì assolutamente sì si può derogare insomma questa cosa della legge va bene ecco queste erano le due delle domande diciamo da ignorante uomo ignorante della strada che non è amministratore di condominio che vive in un condominio senti ma invece per le spese straordinarie no ma se il condominio decide di fare una spesa straordinaria come la famosa piscina cioè e io non sono d'accordo ma mi posso sfilare da questa cosa dico no no io la piscina non la voglio non la voglio usare non la voglio mettere non la voglio pagare lo posso fare allora lo puoi fare non diciamo non dando il tuo consenso nel quando si approva la spesa faccio un esempio se nove persone sono d'accordo e tu no tu voti in maniera contraria detto questo tu vorresti anche dire in assemblea senti ma a me me ne frega proprio della piscina come l'ascensore no non la prendo l'ascensore non le pago le spese va bene così puoi fare la stessa cosa con la piscina non mi butto in piscina non mi vado non mi piace nuotare e quindi tu non utilizzando quel bene puoi non partecipare alla spesa però ti devi utilizzare però hai citato una cosa no se io abito al quarto piano e dico che non voglio mettere l'ascensore mentre gli altri lo vogliono mettere perché magari non c'è nel palazzo e dico che no io non lo voglio mettere come faccio a controllare che tu non usi l'ascensore si utilizza una chiave ah c'hai ragione scusa la domanda così dico perché se quello quando non lo vede nessuno usa l'ascensore entra di soppiatto e si utilizza la chiave ci sono invece spese straordinarie a cui nessuno si può sottrarre eh quelle di urgenza ad esempio se il terra diciamo il lastrico solare perde quella è una spesa a cui tu non ti puoi assolutamente sottrarre perché è un bene comune se un pilastro subisce dei danni a causa di infiltrazioni d'acqua quindi si corrode il ferro all'interno ah ok quella di sicurezza oppure bene comune del tuo condominio che non sono così eh velleitarie oppure di bellezza rispetto al vicendio oppure ho capito quelle anche se io dico no io non la voglio la devo la devo fare la devo pagare lo stesso sì assolutamente sì va bene senti invece visto che siamo in tema di pagamenti no se appunto io la spesa è la più semplice che è quella alla rata condominiale io faccio il furbe non la pago non importa io tu mi mandi le bollette mensili di 50 euro io non le pago tre mesi sei mesi che cosa mi succede sì qua devo precisare una cosa molti condomini si confondono perché dicono io devo pagare tipo il discorso dell'esempio di prima no devo pagare 100 euro al mese non pago dicembre ok quindi io devo dare al condominio 100 euro no non è così nel senso che quello che devi dare diciamo a come spese condominali è quello che l'amministratore effettivamente spende quindi facciamo un esempio se io cambio gestore adesso ritorniamo all'esempio dell'impresa di pulizia di prima cambio gestore a inizio anno e quindi io non ho preventivato 1000 euro al mese questa ditta mi fa 900 euro al mese io a fine anno non devo dare più 100 euro al mese ma devo dare 90 euro al mese quindi se io ho mancato di dare la rata di dicembre non devo dare più al condominio 100 euro ma devo dare 90 se io non pago dicembre l'amministratore può sollecitarti 90 euro non 100 ok ma se io non ho pagato proprio niente tutte tutto l'anno non ho mai dato niente di nulla che mi succede non hai pagato nulla e l'amministratore fa una lettera si chiama di messa in mora dove dopo che diciamo l'importo di debito è stato approvato in assemblea quindi faccio l'assemblea metto i nominativi dei condomi metto per ogni condomino se devono avere o devono dare nel senso che se hanno un credito o hanno un debito nei confronti del condominio dopodiché aspetto 30 giorni perché dalla da quando si fa la riunione passano 30 giorni nessuno contesta il verbale io posso procedere prima con una lettera di sollecito si chiama di messa in mora dopodiché agisco tramite il giudice con quello che viene chiamato il decreto ingiuntivo cioè il giudice quello classico che fanno gli avvocati quando uno non paga un qualche cosa che deve pagare bravissimo esattamente proprio quello quindi quindi se il condomino non paga che fanno di sequestrano un pezzo di casa possono fare prima no in prima battuta possono bloccare il conto corrente questa è un'altra cosa che molti non hanno se non ci sono appunto conti correnti si si ipoteca la casa sì quindi quindi alla fine bisogna pagare per forza per forza ti sarà capitato però che ci sono dei condomi che non pagano che fanno problemi sì 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 e ti dico che nel 90 per cento dei casi si risolve dopo la lettera di sollecito ok ok insomma in modo buonario tranquillamente ma bisogna sempre fare così la maniera migliore senti proprio perché appunto ho detto io mi piace perché c'è questo modo innovativo è anche molto agile e veloce di mi racconti un condominio nuovo che hai preso tre mesi fa sei mesi anno fa e sei arrivato il problema più grosso che c'aveva del vecchio amministratore e tu come l'hai risolto fammi un esempio sì avevano il contatore dell'acqua in comune quindi molte persone non non pagavano e ovviamente il condominio si sobbarcava gli altri condomini si sobbarcavano le spese di quelli che non pagavano io molto semplicemente sono andato in comune al comune praticamente gli ho portato le letture di tutti e 60 appartamenti mamma mia l'ho fatto intestare a uno a uno i contratti e ho risolto gli hai fatto mettere 60 contatori sì però il comune non si è mosso nel senso che ho fatto tutto io ho preso le letture ho preso i numeri dei contatori sono andato dal comune e poi ho staccato il contatore generale e dall'altro il vecchio amministratore questa cosa neanche gli girava il cervello di farla proprio no purtroppo no e queste sono le fonti di discussioni che poi ma io non consumo quasi niente di acqua no perché devo pagare così cose del genere immagino che l'hai sentito assolutamente assolutamente un altro racconta meno un'altra insomma veloce tipo una cosa del genere va un'altra ad esempio sono andato in un altro condominio che anche hanno il contatore in comune e qualcuno diceva no ma i negozi sono attaccati al condominio paghiamo anche per loro io sono andato con un tecnico del comune sul contatore ho chiuso la valvola un negoziante è uscito e dice ma scusate ma state giocando col contatore dell'acqua ah sì quindi si è attaccato al contatore benissimo ti includo anche a te nei pagamenti ecco vabbè le controverse più grosse sono queste insomma senti altra cosa che vorrei che tu dicessi adesso chi ha ascoltato e tu hai hai messo in piedi appunto sia per quelli che già sono tuoi condomini questo sistema molto snello molto veloce per risolvere le problematiche però se io voglio sapere da te una consulenza voglio avere da te una consulenza e tu non sei il mio amministratore ma io voglio arrivare preparato dal mio amministratore perché lui mi racconta una cosa io voglio essere sicuro è quello che mi dice giusto posso rivolgermi a te e avere una consulenza da te come posso fare sì io ho un sito dove ovviamente ho scritto alcuni articoli sul condominio e offro sì consulenza in tutta italia per varie problematiche insomma ci sono dei pacchetti e si può facciare una video call dove il condomino la persona insomma può descrivermi il problema può inviarmi la documentazione bilanci e quant'altro e io analizzo e fornisco un parere perché mi immagino se uno che mi sa che sente questo podcast se abita a milano dice vabbè tu di dove sei geluto non sei a milano si sente no diciamo è difficile che tu puoi andare a fare l'amministratore di un condominio che sta a napoli diciamo è complicato sì è complicato però potresti dargli una consulenza perché questa persona sul tuo sito che è il mio condominio punto org ok il mio condominio www il mio condominio punto org va lì sopra e c'è ci saranno dei posti dove puoi andare a prenotarsi la consulenza con te pagare mezz'ora un'ora due ore non lo so quello che sarà e avere la risposta a quello che che è la sua la sua cosa la sua domanda bellissimo fosse molto molto bello questa era la cosa per cui infatti ti ho invitato a parlare un po tutti quanti perché perché siccome tutti paghiamo il condominio sapere se possiamo risparmiare due certe cose perché io parlo di soldi di investimento ma se io risparmio posso investire assolutamente è normale no e se scopro che invece di pagare 100 euro al mese di rata di condominio ne posso pagare 50 per non so quale motivo magari come dici te far mettere i contatori in un certo modo quello così quello cosa cioè alla fine sono soldi risparmiati ti posso portare un altro esempio molto oggi molti non fanno caso ai contatori elettrici condominiali molto spesso e mi è capitato di avere dei contatori che hanno 10 kilowatt di potenza in realtà quei 10 kilowatt non servono ne servono tre ma tu paghi forse erano una volta di quando serviva per tutto il condominio che serviva tanta potenza e molto semplicemente quando almeno ti parlo della realtà di napoli quando si costruiva un cantiere ovviamente si metteva il contatore a 10 kilowatt poi il contatore rimaneva così e quindi nessuno si accorgeva insomma che quella contatore era sovradimensionato se tu scendi da 10 a 3 risparmi molto sui costi fissi della corrente perché alla fine quello è il costo diciamo della corrente elettrica condominiale il suo fisso della potenza del contatore vedi quanti spunti che pur io questo non ci avrei pensato ecco ecco perché ci vuole un professionista di questo che si occupi anche di cose che sembrano stupide ma che non lo sono perché sommate una pressa all'altra fa la differenza i costi di un amministratore e anche di velocità di risolvere perché la persona che sta nel condominio del lavoro tutto il giorno torna la sera alle 8 non è che si deve arrabbiare col condo con l'amministratore perché non gli da retta perché non lo trova perché magari gli dice vieni dalle due alle quattro dice scusa ma se durante la settimana lavoro fino alle sette ma quando ci posso venire da te non è possibile domenica voglio riposante voglio sentire per niente invece tu col tuo sistema hai trovato un modo per comunicare con quello dall'ufficio mentre sta in giro sta all'ora di pranzo ti scrivo un whatsapp e tu risolvi per lui la situazione problematica che ti ha proposto bello esattamente mi piace mi piace proprio senti fatti prima di di salutarti insomma che hai dato dei bei spunti tu invece siccome io lo sai che faccio il consulente finanziario racconta un attimo tu come sei per gli investimenti della banca come ti trovi come si è trovato qual è la tua il tuo atteggiamento allora io da pochissimo devo dire la verità sto predisponendo dei cuscinetti di sicurezza cioè io già da un po' di tempo ho un'assicurazione privata insomma accantonando una cifra per le emergenze diciamo così perché avrei diciamo intenzione da qua diciamo un annetto di esplorare un po' il mondo degli investimenti intendo non so gli etf vabbè in figura tu mi puoi insegnare su questo punto gli etf piuttosto che le azioni perché credo che preservare prima il capitale per l'emergenza e poi investire per il proprio futuro ti possa dare più in là diciamo così un mar una tranquillità economica maggiore rispetto a che diciamo la classico stipendio di amministratore che ti vai a prendere te lo spendi tutto non mi sembra proprio un'azione coerente insomma è brava hai preso con giusto approccio perché prima bisogna proteggersi perché se anche io io lo dico spesso nei miei podcast io ho 100 mila euro in banca perché dico non si sa mai ma mi succede qualcosa di veramente importante con quei 100 mila euro non ci faccio assolutamente niente è solo una copertura assicurativa mi può garantire da accadimenti importanti non non si sa mai li metto lì invece se mi succede una cosa importante la compagnia assicurativa mi può coprire invece da tutti questi rischi non da quei 20 30 50 100 mila perché poi dipende che famiglia c'hai che esigenze c'hai quante case c'hai che se sei un imprenditore magari per uno che c'è uno stipendio normale 100 mila euro posso sembra tanti per una persona che è un imprenditore 100 mila euro possono essere pochissimi esatto infatti mi sono trovato molto diciamo così quando cominciato a seguire il tuo podcast e ho visto che quello che io avevo pensato in realtà tu lo dicevi già da tempo per cui mi ha fatto piacere questa cosa ok sto facendo una cosa giusta perché detto da un professionista come te è ovvio che mi sono sentito un po confortato ecco da quello che stavo facendo perché tu poi leggi gli articoli su internet vai un po da autodidatta invece sentire una persona come te comunque dava questi suggerimenti mi ha fatto piacere insomma tanto poi lo sai che ne riparleremo poi in privato insomma però mi faceva piacere dico faccio sempre questa domanda per capire poi ognuno di noi c'ha la sua propensione in un certo modo in un altro magari delle volte delle convinzioni sbagliate come normale per chi non fa quel lavoro e quindi ne parliamo tranquillamente in un fronte con tutti e cerco di scambiare l'idea su quello che è la sua idea poi magari gli porto dei dati per cercare di dimostrargli che forse quell'idea che c'ha non è proprio la più giusta per quello che vuole fare però insomma si può sempre parlare senti Gianluca ti ringrazio tanto di essere stato qui con noi e ripeti il tuo sito così chi vuole ricerca ti chiama ti scrive sì allora il mio sito è www.ilmiocondominio.org perfetto Gianluca Biondi diranno anche digitando il tuo nome immagino se ti metto il tuo nome Gianluca Biondi su internet e con il pubblico perché tu fai pure dei video dei poi cosa fai che oltre al sito al momento sto preparando dei video da pubblicare su youtube e quindi mi sto strutturando un attimo così poi farò sì sicuramente dei podcast perché mi rendo conto che c'è molta fame di informazioni brava sì sì perché le persone come per anche il mio uno vuole avere informazioni poi ci pensa e poi magari ti contatta e ti parla assolutamente senti Gianluca grazie moltissimo grazie e spero che ti chiameranno tante persone per avere informazioni e ci sentiamo alla prossima va benissimo alla prossima grazie ancora per l'opportunità allora ciao e sono contento di che sei rimasto fino adesso se sei rimasto se ti è piaciuto vai su apple podcast e metti le 5 stellette è una bella recensione oppure insomma parla di questo podcast ai tuoi amici e diffondilo più che puoi ciao ci sentiamo alla prossima ciao 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 ciao